chissà se so come si fa ancora ciao lettrici e lettori bentornati e bentornata su Miss Fiction Books io sono Tiffany e so che avete pensato che questo canale fosse morto più o meno avete anche ragione però diciamo poi ne parleremo magari in un video fra qualche tempo di come sono andati e cosa ho fatto in questi mesi perché ci sono tante cose che vi devo dire però volevo cogliere l'occasione un pochino di tornare su questi schermi parlandovi di una bella uscita che ho avuto il piacere di leggere in anteprima e presto vedrete anche nel corso del video anche un'intervista all'autrice che si chiama Camille Monceau e si tratta delle cronache dell'acero e del ciliegio il primo libro che si chiama La Maschera del No questa è una serie premetto per ragazzi viene indicata come middle grade barra young adult io devo dire che su questo ho qualcosina da dire ma poi ne parliamo è arrivata anche Pippi ciao Pippi grazie per averci graziato della tua presenza molto piacere fai pure come se io non stessi girando un video è un romanzo comunque dedicato ai ragazzi è chiaro anche se secondo me ha tanti elementi che invece possono piacere notevolmente anche a chi come me non è più una ragazza e quindi volevo parlarvene primo perché è stata una ottima lettura in questi mesi dove ho letto molto poco poi ripeto ne parliamo insieme fai pure Pippi prenditi il tavolo mettiti a girare come vuoi certo perché è possibile fare questa cosa non arriveremo mai in fondo a questo video sarà un delirio mi dispiace quindi niente partiamo un attimo da le cronache cosa raccontano come si fondano e adesso appoggio anche il libro e poi ve ne parlo con calma seguiamo infatti in questo volume la storia di Ichiro inizialmente che è uno dei nostri due protagonisti Ichiro è un ragazzo che viene abbandonato sulla porta di un samurai un samurai che però ha una storia un po' particolare perché lui ha abbandonato i tempi diciamo dove era attivo gendo un po' questa vita che lui ha proprio abbandonato e si è ritirato tra le montagne quindi il nostro protagonista che si chiama Ichiro cresce appunto in questa sorta di mondo isolato da tutto e da tutti insieme al nostro samurai e a Oba che è questa donna anziana che si prende cura di lui si prende cura della casa del maestro in cambio di ospitalità e è una vita molto strana quella di Ichiro e allo stesso tempo anche un po' idiliaca se vogliamo in questa fase della sua infanzia perché infatti è una situazione che da un lato lo ripara da tutto ciò che invece rappresenta il mondo esterno però dall'altro rappresenta una situazione di grande solitudine infatti a parte il maestro e a parte Oba Ichiro non conosce nessuno non ha contatti con nessun altro non va nemmeno mai al villaggio più vicino ogni volta che c'è da prendere delle provviste per esempio o di scambiare i frutti magari dell'orto per avere in cambio altre cose e in questo caso il maestro decide di crescerlo anche seguendo la via del samurai quindi insegnandogli tutto ciò che sa sia sull'arte della spada sull'arte del combattimento ma anche dal punto di vista proprio dell'apprendimento e dell'educazione infatti Ichiro legge tantissimo impara tantissimo sulla storia del Giappone che in questo momento si avvia proprio in quella che poi diventerà e verrà chiamata l'età Edo infatti qua siamo proprio agli albori dopo secoli e secoli di guerre guerre scontri e insomma tutte dinamiche molto poco pacifiche ecco il Giappone si avvia verso il periodo di lunga stabilità anche se sotto bolle qualcosa e che forse c'entra anche con la storia del maestro purtroppo questa situazione molto idilliaca però dovrà giungere alla fine però giungerà alla fine in una maniera molto traumatica e Ichiro in qualche modo dovrà reinventarsi e reinventare la propria storia e non voglio andare molto oltre primo perché sapete che mi tedia a fare i riassunti secondo perché poi secondo me la cosa bella è proprio leggerla e scoprire tutte le varie dinamiche della trama senza entrarvi troppo dentro e partiamo come sempre questo è un tipo di recensione che penso sia assolutamente necessaria ad affrontare su se può fare per voi o no ecco io ho trovato alcuni elementi che secondo me rendono quest'opera allo stesso tempo estremamente amabile e particolare e allo stesso tempo che sicuramente fa per alcune persone più che per altre ok sono arrugginitissima a fare le recensioni vabbè e quindi penso che gli elementi forti delle cronache dell'acero ma soprattutto della prima che è la maschera del no è innanzitutto il setting l'ambientazione se come me ovviamente siete affascinati innamorati del Giappone non tanto a livello pop contemporaneo ma quanto più insomma tutto ciò che ha a che fare con le tradizioni con la storia con l'arte diciamo tutto ciò che ha a che fare proprio con gli elementi fondanti della cultura giapponese questo libro sarà una gioia per gli occhi come sentirete anche fra poco nell'intervista di Camille Monceau Camille è francese l'autrice è francese ma ha scritto questo romanzo ambientato in Giappone proprio perché è sempre stata una sua grandissima passione però ha dalla sua il fatto di avere un compagno un marito che è per metà giapponese quindi sono stati frequenti viaggi sono stati frequenti periodi proprio passati in Giappone in modo proprio da conoscere ed entrare molto nel dettaglio dentro questi elementi quindi penso che quello che fa questo libro sia fondamentalmente un'esperienza molto immersiva quindi entrare dentro la storia di Ciro e di tutto ciò che succede a lui e non solo innanzitutto è un'esperienza che davvero ti fa viaggiare moltissimo e ti porta dentro questa storia in maniera molto molto delicata ecco che secondo me è un aspetto che emerge moltissimo dalla scrittura di Camille il nostro Ciro infatti è questo personaggio che fondamentalmente è un po' come Piranesi visto che l'abbiamo letto diverso tempo fa è un po' ignaro di tutto il mondo quel poco che conosce è il perimetro nel quale si muove però è curioso è una persona davvero molto pura nel senso che non ha avuto così tanta esperienza per giudicare in alcuni modi il mondo esterno perché non ne ha allo stesso tempo I Ciro è anche sinonimo quasi di delicatezza proprio perché questa sua mancata esposizione a tutto ciò che sta fuori dalla casa in montagna ci permette anche di conoscere tutta la parte del mondo che noi ancora magari non conosciamo o dobbiamo esplorare anche la sua stessa educazione ci permette proprio di sperimentare anche che cosa significasse i tempi avere a che fare con l'ambito del samurai e diciamola se è una pirla il suo addestramento e la sua educazione ci permettono proprio di conoscere anche sfumature di questo mondo tra le sue varie contraddizioni che secondo me sono estremamente preziose e affascinanti se questa parte qui vi interessa secondo me è un libro preziosissimo questo poi è un romanzo storico non è un romanzo fantasy per ragazzi è un romanzo storico e questo chiaramente ci riporta a una storia che chiaramente segue il suo corso ma ambientata in un periodo molto specifico che è quello Edo quindi anche su questo frangente qui consiglio di leggerlo soprattutto se queste cose vi affascinano se vi rapiscono eccetera perché saranno una parte molto prevalente del romanzo e che chiaramente la sua forza coincide molto spesso con questi tratti di pennello che dipingono un po' tutte le varie particelle che compongono il mondo di Ciro è chiaro che se siete meno interessati all'aspetto storico all'aspetto culturale questi vi entreranno un po' meno dentro ed è chiaro che sia una prospettiva da tenere a mente ogni volta che ed è chiaro che questa è una prospettiva da tenere a mente una volta che vi approcciate a questo romanzo l'altro punto secondo me estremamente forte e che però trovo in qualche modo divisivo delle cronache dell'acero e del ciliegio è la scrittura di Camille Monceau che a me è piaciuta moltissimo è piaciuta molto perché è una scrittura che è molto immersiva ma che si prende tutto il tempo che le serve per ricordare richiamare e anche avvicinarsi alla tradizione giapponese quantomeno alla tradizione letteraria per tantissimi aspetti innanzitutto le modalità con cui lei descrive questo mondo sono molto delicate veramente quando parlo di tratti di pennelle perché questa è l'impressione che io ho avuto ogni volta che lei ci faceva scoprire una piccola scena e un ambiente un mondo un pezzo della storia ciò che fa Camille Monseau è quello di riprendersi però le modalità narrative invece dei testi tradizionali della letteratura giapponese che sono un po' diversi secondo me da quelli a cui noi siamo abituati quindi anche per descrivere la storia di Ciro ci sono moltissime immagini moltissimi passaggi moltissimi tasselli che apparentemente sembrano quasi inutili ai fini della trama o inutili nel senso che non sono particolarmente significativi ma una volta che noi procediamo e li abbiamo tutti collezionati ci permettono assolutamente di entrare sia dentro i luoghi dentro la cultura dentro l'atmosfera in una maniera che secondo me è estremamente pertinente a ciò che vuole significare un po' la storia ma soprattutto è anche molto immersiva e questo crea tantissimo l'illusione di aver quasi viaggiato al fianco del nostro protagonista e questo io l'ho trovato molto molto bello proprio perché ti dà una dimensione quasi ancora superiore rispetto a questo tipo di storia aggiungo anche che il modo in cui monso riesce a rappresentare anche il suo personaggio e i personaggi attorno è sì delicato perché è una cosa che ricorre spesso secondo me questa sensazione quella di entrare a piccoli passi dentro questo mondo senza dover disturbare o comunque cercando di coglierne anche quelle sfumature molto molto lievi è il modo in cui lei riesce a rappresentare in una proprio epopea che è chiaramente show don't tell anche tutte le emozioni e la psicologia dei nostri personaggi soprattutto quello di Ciro ci sono diversi passaggi dove effettivamente deve cercare di rappresentare la solitudine o comunque che cosa significa questa vita isolata soprattutto per un bambino e invece che farlo in una maniera molto plateale e senza dover per forza idealizzare il vivere separati in una montagna bellissima con tutte le tradizioni che vivono dentro questo piccolo nucleo familiare un po' tipico la cosa che riesce a far emergere però soprattutto da ciò che manca è il senso di solitudine e riesce a farlo proprio non cercando di rappresentarlo ed è una cosa davvero che in qualche modo ho trovato molto affascinante e molto riuscita della sua scrittura Camille Monceau è riuscita a trasmettere quello che manca semplicemente parlando di tutto ciò che c'è e non lo so l'ho trovato molto potente a me ha convinto moltissimo ci sono diversi passaggi proprio che mi hanno stretto il cuore perché è molto commovente il modo in cui piano piano insieme a Ricciro noi scopriamo varie cose che a lui erano state precluse fino a quel momento e l'idea di riuscire a rappresentare anche ciò che a lui è mancato e le nuove scoperte della sua vita sono davvero una stretta al cuore meravigliosa davvero bella si trasformeranno in molto altro soprattutto nella seconda metà perché Ricciro dovrà affrontare delle sfide davvero molto dure e che non avranno pietà di lui e in qualche modo ci insegnerà a sopravvivere insieme proprio a tutto ciò che sarà parte del suo percorso ecco è una scrittura quindi molto immersiva è una scrittura molto delicata che va a toccare tutta una serie di piccoli episodi tassellini che una persona va a comporre quindi mentre ci vuole pazienza e ci vuole tempo per arrivare a cogliere dove vuole andare l'autrice perché si deve prendere del tempo per fare questa costruzione mi rendo conto che non sia adatto a tutti e a tutte perché se vogliamo una storia densa di azione che parte subito ingranando in quinta questo forse non è la storia che più si addice a quello che piace a voi però devo dirvi che se avete la pazienza di aspettare e di farvi trascinare questo diventa proprio quasi un rituale non diventa tanto un libro diventa una modalità attraverso la quale riuscire ad immergersi e fare davvero un viaggio con la mente e soprattutto riuscire a farsi sentire parte di un tutto in un momento della giornata durante la lettura non lo so io l'ho percepita molto così quindi forse questa è più un'impressione mia che altro però la cosa più potente di Camille Monceau almeno in questo volume è avermi fatto davvero staccare completamente il cervello da tutto il resto dandomi un ritmo lentissimo di immersione nella storia che poi non è così lento in realtà sono io che sto andando molto lenta nella lettura in questo periodo però l'idea di aver avuto lo spazio per respirarla secondo me è una delle cose più potenti di questo libro contando che poi succedono tantissime cose quindi non è che sprechiamo tempo però abbiamo bisogno un po' di entrare dentro tutti questi episodi ecco dopo di che noi passiamo un pochino ai personaggi ecco i personaggi secondo me soprattutto Ichiro perché è quello che ci guida prima dopo durante e per tutto il nostro viaggio è chiaramente una storia che che ci colpisce che ci fa sentire anche molto vicini a un personaggio del genere Ichiro è una persona molto sensibile ma soprattutto che ha vissuto profondamente la solitudine nonostante una situazione che vederla da fuori forse può parere molto molto idilliaca il fatto di vivere isolati in montagna insieme a due persone che fondamentalmente lo avevano molto a cuore e riuscendo a vivere con dei ritmi molto lenti diversi da tutti quelli che viviamo ovviamente ora ho la sensazione di essere sempre un po' fuori posto e avere degli attriti anche con ciò che il maestro gli insegnava quindi la via del samurai quindi la massima rappresentazione di una determinata cultura che è molto a che fare con soprattutto la mascolinità la virilità eccessiva e molto spesso in realtà Ichiro è una persona che mentre apprezza moltissimo alcune cose legate proprio all'arte e alla via del samurai dall'altro lato si pone tanti dubbi non riesce a non concepire tutta la vita attorno a sé come importante tanto quanto la sua come non riesce magari a non mettere in dubbio alcune cose che sono successe e che si celano dietro questo allontanamento da parte del maestro e questo allontanamento volontario del maestro da ciò che era la sua vita precedente per isolarsi in questa situazione diciamo quasi staccata da tutte e da tutti devo dire che in questo Ichiro è un personaggio che veramente viene voglia di abbracciare per sempre perché è molto delicato ancora è una persona molto sensibile e non è il classico protagonista che è stato messo al centro come grande diciamo rivelatore di cose che già gli vengono sempre facili ogni cosa che fa Ichiro se la deve sudare tantissimo e questa è una cosa che a me è piaciuta molto e soprattutto è un personaggio che si pone continuamente dei dubbi che deve affrontare delle cose molto dure in una maniera credibile ecco tra colpi di fortuna ma anche colpi di enorme sfortuna che non segnano sicuramente la base del suo percorso quindi c'è tutta una crescita personale psicologica molto importante anche capire qual è il suo posto nel mondo in una realtà che è molto lontana da quella che secondo me lui credeva sarebbe stata la sua in questo io l'ho trovato un personaggio molto riuscito e davvero al quale ci si affeziona con grande facilità gli altri personaggi sono tendenzialmente secondari sia perché da un lato accompagnano Ichiro come il maestro come Oba soprattutto nella prima parte del romanzo e gli amici di Ichiro una volta giunto a Dedo che chiaramente rappresentano anche tutto il suo nuovo mondo il suo nuovo ecosistema di persone che sono tra le più disparate persone della sua età persone estremamente più vecchie i suoi dottori di lavoro insomma c'è tutta un'atmosfera molto corale anche di alcuni aspetti la famiglia che lo accoglie tutte cose davvero estremamente preziose che arricchiscono l'universo di Ichiro e poi c'è chiaramente la nostra seconda protagonista che però io voglio lasciare super in sospeso perché è super spoiler e arriva molto in là nel romanzo in queste cose diciamo che secondo me la psicologia dei personaggi secondari e il loro ruolo diventa più definito ma anche credibile non li perdiamo per strada da Sheen a Oba al maestro ecco ci lasciano magari degli interrogativi quello sempre ma sicuramente non rappresentano semplicemente la loro funzione entrano in una relazione molto credibile con il nostro protagonista e non c'è chiaramente di questi un approfondimento estremamente minuzioso però ognuno di loro secondo me è molto inquadrabile e definibile in una maniera chiara e che riusciamo a cogliere con facilità anche in questo secondo me è molto riuscito e sullo sfondo ovviamente ci sono tutte le vicende della macro storia no? quello che vi dicevo un po' anche prima insieme ai nostri protagonisti e la loro vicenda diciamo che è molto personale tanto di crescita quanto di inserimento in queste dinamiche più alte no? e troviamo un Giappone che sta subendo una profonda trasformazione che sta vivendo un passaggio dove si mettono in dubbio anche le figure più autorevoli di tutto il Giappone appunto i samurai perché forse effettivamente quel mito eroico inscalfibile eccetera presenta delle incrinature presenta qualcosa che non va e c'è tutto il tema del complotto politico c'è tutto il tema della questione politica più generale in cosa si sta trasformando il Giappone e questo periodo cosa rappresenterà di nuovo cosa sarà di nuovo tocca molto poco magari in alcune dinamiche le vicende personali dei insomma dei personaggi che fanno parte di questo universo però allo stesso tempo sono fondanti perché la storia di Ciro senza tutte queste dinamiche non esisterebbe e in questo io credo che riesca bene a bilanciare l'osservazione del mondo attorno con l'osservazione ovviamente più personale e che ci interessa chiaramente di più che è quella della storia di Ciro che deve capire dove andare cosa essere cosa vuole fare pieno di contraddizioni di dubbi di domande ma come siamo stati tutti alla sua età come siamo stati davvero anche noi prese da dubbi esistenziali nel capire cosa effettivamente siamo cosa no affascinati dalle cose più disparate e io questo davvero l'ho apprezzato tantissimo ecco se dovessi consigliare questo libro mi sento di farlo chiaramente soprattutto alle persone che più si sentono affascinati e più sentono il richiamo dell'atmosfera giapponese o comunque dell'atmosfera culturale e che ha molto lasciato ovviamente riminescenze anche nella fascinazione che si prova per l'orientalismo e comunque in generale per il Giappone in questo caso io devo dire che il lavoro di Monceau è da un lato sia di pertinenza storica che di pertinenza culturale e muove in una storia che rappresenta in tantissime forme in tantissime cose qualcosa di nuovo perché non ricalca gli stereotipi diciamo i topoi e sicuramente le dinamiche molto popolari invece diciamo anche nel mercato attuale dei libri per ragazzi sia del mercato europeo che di quello americano ecco in questo secondo me nasce il punto forte del libro cioè è una storia non classica è una storia che si segue il nostro eroe nel suo percorso ma non c'è solo quello e non è nelle modalità più prevedibili che esistano e in questo secondo me c'è molto di affascinante e che secondo me può davvero creare qualcosa di unico un'esperienza quantomeno di lettura unica e io direi che visto che ne ho già parlato più che a sufficienza e insomma vorrei anche lasciarvi alle parole di Camille Monceau visto che l'ho intervistata una domenica mattina ed è stata davvero super carina quindi io direi che passerei direttamente al nostro dialogo e noi ci vediamo per i saluti finali first of all ciao Camille and there was a lot of wars between clans and the Edo period on the other side is and especially at the beginning of my novel it's the beginning of a 200 year period of peace which was completely unheard of in Japan at the time and I really wanted to write about the really the beginning of the Edo period because it's the time where you go from a civil war time from to a time of really peace and no more wars and no more no more civil uproar so I really wanted to write about this because I think the people who lived at the time really knew a big change in their lives and also it's the it's really the beginning of the of the Tokugawa shogunate so the the warlord uh government and it's the beginning of uh the country closing on itself so you have to see that in the 16th century there were a lot of foreigners uh merchants from merchants from Holland from England uh who came in Japan and Portuguese uh Portuguese missionaries but uh at the big then at the beginning of the Edo period the Tokugawa shogunate says we need to close the country and so I was really interested in showing why and how and how the people who lived so in Japan at that time lived this situation yes even because uh when you when you pass through um you know civil war to a peaceful period there is something that lays underneath the movements there you know the restless ones and there is something that is going on and I think in this transition you have to think about that because it's happening and you you cannot leave it behind and I think this emerges very clearly in the story and Ichiro which is our main character is you know his story starts very idyllic you know it's a very beautiful and peaceful life even though it has its flaws um but at some point it becomes very harsh uh you know we see this contrast in the year that follows his childhood um his purity is in a sense are very impressing but also very moving at a certain point I I have underlined uh the the moment he sees the sea which is very touching in my opinion how is to write a character like him because I think it's easier to write uh you know bold and strong character but Ichiro is very you know light and delicate and innocent in the sense of he doesn't know much about life and has not much experience yeah that's true um I think uh one of my main concern so since my first idea of the novel was the idea of the heroine Hina Hime the the girl who wears a mask um but I started to write from the point of view of Ichiro a young boy I didn't want to go into the stereotypical uh samurai warrior who is super strong and who is born to save humanity and who is a tough guy you know and we have a lot of that and it's a common narrative stereotype to have the young boy who is the chosen one I mean you have for instance Harry Potter or it's something that you have a lot but um often those heroes are also very fragile they are not the one they are not the super tough guys and I wanted Ichiro to be like that I wanted him to to be to be a naive character because in uh that way I can uh help the reader understand more about the Edo society so he he is a he's of a big help to introduce the Japanese history for readers who don't know anything about that the type of history and also I yeah I wanted to to go against the 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 topic of uh toxic masculinity you could say because the way of the sword the samurai uh code was a very toxic masculinity it was you have to be strong you have to have your honor and Ichiro receives this history but at the same time he his his master is he's a very ambiguous character he he turned his back uh on the mod on his world because he didn't recognize himself uh in this way of this world so I think yeah Ichiro is um is a naive and fragile character because it was a way of uh introducing a different kind of character I think and one that maybe more readers can identify to because I mean I don't know a lot of super tough super brave people I think most of us are people who try their best and sometimes we feel lost and we can be brave but sometimes we are not brave so yeah I wanted to have a a complex character I think it's very clear that we also see the world through his eyes that he discovers why he gains experience and at the same time we feel I think very sorry but also closer to us because he feels such loneliness that he doesn't even know how to express and I found that very very powerful even even if it's very delicate I don't know what to say but it does and I think it's very important even because usually when we have our hero he knows where to go he already knows where the story needs to to be taken through his actions while our our hero is very different in the in the chronicles and I I really really loved him thank you and I find very unusual um if also for uh young adult literature um as we conceive it in the western kind of ways u.s and europe market and our market terms the attention to details uh the small episodes uh the apparently ordinary things that are going on in the the story um the situation we see um but through them we can get to know a little more about ichiro a little bit more about the story uh and our characters uh so much better um is this a to attribute to japanese culture or and japanese literature because I find it that for us it's still weird but it's very japanese definitely uh and I think it's because I read a lot of japanese literature uh alas not in japan not in japanese because my japanese is not good enough but I I read a lot and I love japanese literature and yeah um they have uh I think not all of them but the writers that I like the most um have a sense of small details and how the small details can also reveal a lot about the big big scheme of things and I also love that I in my personal uh experience as a writer I really I'm more comfortable with uh descriptions than action so and at the beginning when I first started writing it was very hard for me because writing dialogues and writing action and uh fights was very difficult for me I was much more comfortable with writing beautiful sceneries or descriptions of the nature and I think it's because I really love the nature and I can spend hours walking and just watching at a beautiful landscape that's really what where I'm uh most myself I think um but yeah the japanese literature really has this um this habit of taking the time and uh describing the nature um I I grew up in the countryside but uh I guess you could say I was kind of disconnected from the nature and I it's really when I moved to japan and I lived there for a year with my husband who is half japanese so who has infused a lot of uh the japanese culture that I realized how much the japanese are in touch in touch with the for instance the seasons and how yeah oh you have this flower who is going to bloom at this type of uh at this time of the year and so we are going to just go outside to watch this for instance the 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 sakura but also the the maple tree and yeah it's it's they in a way I think for me it was really a shock like wow they really live in touch with the with the nature and when I go back when I came back to France I kept a lot of this habit with me and I really wanted to to put it in my in my writing and also when I started writing this novel I didn't really think about the public and who was going to read it I wanted to get it published obviously and I wanted I wanted this novel to be read but I first started to write it for me it was really because I missed Japan so I didn't want to make any compromise and I had to make some in the end with the publishing house the French publishing house who told me for instance sometimes the sentences are too long so if we want to to make it appropriate for young readers such as beginning like 13 years old you have to to make it a little bit easier but they they also they didn't make me cut any descriptions and that was very important for me because that was something I didn't want to compromise on because I I loved writing this this way aside from Japanese Japanese literature this is also a tribute to the theater and the theater art in general we see it with the girl with the mask but not only and even this side is very fascinating for me even because it's not very usual you know we see the theater usually in Japanese context but just as you know entertainment while we see a lot more inside of of the art and of even the war between the two schools of new theater and old theater one that doesn't talk anymore to the public and the other one that is the new thing but it's still fighting to emerge I I think this is a very beautiful introduction of Japanese theater and it fuses to to the concept of literature and I think it's um a new feature that uh so many people and so many young kids that are approaching to to the chronicles can can see and that I've not read much I haven't read much about it I don't know if it if you've if you've seen it more in other operas but I didn't not so much it's true and I think uh there are several reasons why I wanted to write so much about the theater um it's uh I think first maybe there is a part of me who I've never uh I've never played theater ever I'm too shy and maybe there is a part of me who very deeply kind of uh who very deeply kind of uh wanted to at some point but I never got the courage to do it especially uh in those times um I had the idea of a kabuki uh troupe uh who was nomad and who went from city to city so I can tell you and I can tell the readers that the theater will uh be a main topic uh throughout the series uh they I I will keep on writing about a kabuki theater and uh there is a kind of freedom uh in this vision that I had of uh and I know that in Japan and in those times that was something that was uh very frequent very frequent very frequent very common you had a lot of uh traveling musicians traveling artists uh who went from city to city to perform and uh that's kind of my idea of freedom even though there are uh I think their daily routine was not uh was far from being uh idly um but also I wanted to write about uh prostitutes uh and uh I wanted to write about artists because in those times they were really very despised uh they were looked upon and they were kind of considered as trash and that's something that I find very revolting and so I wanted to give them a voice and to write about them and I wanted Ichiro uh who has an upbringing kind of an uptight upbringing because his master was a samurai and he was only raised with Oba the the servant of his master so yeah he's raised as a part of the nobility of the how to say the leading class and when he discovers the artist and the musicians and the actors and actress actresses he encounters a totally different world and it's kind of humbling in a way like he it helps him understand that the samurai are abusing their power and in a way I think it's going to help him realize what type of people he wants to become yeah precisely I think the theater is very useful to to express this passage from you know uh the culture he was he he had learned during childhood which is helitary because he doesn't understand that because he doesn't have contacts with other people but at the same time through the theater he understands that so many people are approaching to the new art let's say like that because they they feel more connected to it they understand it which is uh exactly something so big for him like he gets struck and I think it's very very important like it's modern and he only he only learns like the classics because I think his master was a bit conservative so yeah it's kind of like a kid today who has only read the classic uh in literature and who discovers I don't know Harry Potter and and was like wow this is amazing like you can do that you can do something like that which is amazing focusing again on the topics because I think um there are some themes that emerges a lot like the loss of innocence the loss of purity but not in a kind of sexual way more in um the kind of transition from not knowing anything not having contents to something different and finding our place in the world which is the main topic I think of the chronicles it's not an easy journey and it gets through a lot of hardships and people have to endure a lot of passages am I missing something like uh what was your main goal through this story well I think first of all that was my passion for Japan this is quite obvious I think everybody can see it but um and I really wanted to write about the samurais but as I said earlier I wanted to take distance from it and to show that it was a toxic masculinity and so that's one of the main thing I wanted to do when I write wrote uh this novel I wanted because you have you can find a lot of production about the samurais and they are a very idealized figure uh so heroic and so brave and and even nowadays I think it can and we know the the link between samurais and the the nationalist uh party in Japan so I think we have uh in in the west we have this uh fantasized vision of the samurai but we need to be to be also aware of the dangers and everything that there is behind so that was one of my main goals and then uh on a more modern scenery I wanted to write as you said uh about uh the topic of how to find your place in the world but and more specifically uh how when you are a young person a teenager how can you fit in a world that was not made by you and so you grow you grow up and you have received an education an education and you you are how to say you are thrown into a world where you didn't decide anything it was made by others and your parents and your grandparents and your great great grandparents and how can you have your word how can you have a say in it and so I guess you have two two choices either you can live get on with your life and and do what everybody do everybody does sorry for instance when Ichiro arrives in in Edo and he understands the power of the castes and the system that is very repressive he has a choice it could be okay I I give up on my samurai upbringing and I'm going to find a job and I'm going to live in Edo and I'm going to make a life because around me everybody does that and so yeah the other choice you have is to to go against it and to say this world that I see is not okay I don't want to be a part of it in the way that it is now I want to change it I want to fight I want to get involved so and it's very hard for Ichiro because his master he chose to to go out of the world so in a way he stayed in his bubble he he said I'm not okay we don't know why I'm going to explain it in the later volumes but there is a mystery about why he left Edo the capital and why he decided to go live in the mountain but in a way yeah he chose a hermit life and so yeah it's a choice that you can have but another choice is you can try to to rebel against what the the adults tell you to do and I I think it's something Ichiro is going to find out very soon and I really wanted to to highlight this fight between yeah staying in in a way in a comfort zone and going with the flow or because it's in a way it's easier because it's it's very hard to fight against everything and to to want to change things I hope Ichiro is going to be brave enough I think he is I know I think it's a very important topic especially for young readers because I think our generation because we are quite uh around the same year and our generation uh was quite beaten up by a few episodes so um I think we tend to think that we cannot change the system we cannot change a lot of the things we we find um there are not okay but not not only not okay there are very discriminating and that are damaging not only humans but also the environment uh other people or animals etc while younger kids I think they have a little bit of spark that we may have lost yeah I think so and I think this is very important and I think that if they understand that if there's something that we do not like but not just like that makes us live not as happy or as good as we should um we need to change them we have the power to change it if we gather our energies somehow and I think this is extremely important to communicate whether you were talking about um the samurais and the toxic masculinity on the other hand we have gender issues that are very visible especially through uh theater forms uh so men can uh act and can play uh while women have very limited options and are lesser beings in this kind of social structure um I think it's one of another one of the topics that are visible in this kind of society that we tend to idolize or we see the the samurais they have all this power while women have known yeah yeah exactly and also it was something uh so the that I wanted to write about uh and also I think we have and because history is written by men mostly uh and uh so it's uh we have a french writer a french historian who is called michelle perrault in france and who said that there is like a double a double problem uh because uh women uh the history of women was not uh judged interesting enough so nobody wrote about the history of women for a long time and then history was made by men so it was kind of like a loop a vicious loop vicious circle and you 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 so that's why you have so few writings uh about women uh when you look in the 19th or 20th century and very often they are very stereotypical because it's men writing from their point of view and so placating what they think was the the daily life of these women but sometimes it's not even the case and so I wanted to I wanted to go also against uh some of the cliches that we can have um and in the second volume I I really focused on that uh especially the warrior the female warriors because they they were uh female uh samurais in japan at the time but they were completely erased from history by the way by the writers so yeah I wanted to to show that you you can have uh we have a certain visions of as you said the samurais and the geisha and everything but that's stereotypical and the it was way more complicated than that with a life that was I think very complicated for women at time but also very different from our references because um when I think it's very it was a very big challenge to stay away from uh my um our uh western uh catholic uh upbringing we have uh references in that are completely in our dna uh about like for instance the the witches hunt and uh the catholic power on women and the nudity and everything it was not the same in japan they they had buddhism and shintoism but they didn't have catholicism uh for most of their time so they didn't have the same the same traditions regarding marriage and divorce divorces and nudity so all of this was very different so I think there was also a way for women to find a certain freedom that didn't exist at the same time in France or in Italy for instance but they had other chains and other problems and more specifically as you said the actresses uh uh in uh 1636 I think they were banned from the theaters by the government uh they weren't allowed anymore to to go on the stage that was dramatic because they were the one who invented the kabuki theater so that was something that really revolted me when I first learned about this so yeah I wanted to write about this yes it's one of the many things that you know women were robbed and yeah it was a beautiful metaphor for many aspects I mean that still they have a very different upbringing for us because it's very different uh society but at the same time it's still a patriarchal society so that's it and it works in very similar ways and I have one last question which is it's your story and the story about behind the chronicles is set in 600 century with very specific issues but how does it still talk to modern readers and modern generations well I I'm glad to know that uh it speaks to to the readers because um especially last year so the book was first supposed to be released in France in April 2020 but because of the covid crisis it was not and it was only released in August and so for a few months I I was very down and I was thinking you know what's the point of my book it's set in a very remote uh place uh very far away from us it doesn't speak about covid and diseases and uh feminism and fighting the patriarchy so patriarchy so I was kind of like what's the point of my story really I don't see it but then when the book was released um a lot of uh people and especially young readers wrote to me on instagram and it was really amazing for me because uh I didn't have the chance to do a lot of uh book signings because of the covid again so I didn't encountered a lot of my readers but some of them wrote to me on instagram and said to me it was really I enjoyed your novel and thank you for writing it and so I was like okay so maybe my novel speaks to to people so I'm really glad about it so then I I thought about it why uh why do people like it I know I like it but I'm just me and I think maybe it's and I know I loved it because I I wrote it to in the first place because I was happy to do it um and I think maybe uh I as you said Ichiro is he's not the common hero you can have and I really tried to uh in the genders issues that you that you highlighted earlier I really tried to to make him uh fragile and to make him almost feminine as we can say you know in essentialist way because men has to be a men have to be a certain way and women have to be a certain way and that's why I wanted him to to be able to cook and also to describe his beauty because most of the time you have very distinct uh descriptions of the characters you have the man the guy who is strong the girl who is beautiful and even though you are aware of it it's very hard to to not to go against it when you are writing so I really try to go against those cliches and those habits narrative habits and I think maybe he in the topics that are uh that I wrote about in the novel are modern that as you said the quest of identity and how to find your place and how to fight against the world that uh that you that you think is unfair um and I think since it's it was written by a young woman who lives nowadays uh it was quite easy to make it modern and accessible for for young readers and to 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 have topics that everybody can relate to I at least I hope that's why that I try to do it oh I think it's very clear so I really hope to to talk about it a little bit more maybe live here in Italy I hope there will be time when we will see yeah events and it would be so cool I will be so yeah I really hope we can do that and I think maybe uh to to conclude and I said it at the beginning but I think in those times where we cannot travel I think maybe we need books with uh that kind of far away setting and it's so far away from us that when we read it we don't think don't think about COVID I hope maybe no I totally it's very immersive so I think that it's the perfect travel and the perfect escape from this situation that keeps us struck in this in houses and with limited traveling etc so I really hope that one day we will have a live event and discuss yeah it would be amazing so Camille thank you so much for the interview I hope you had a good time I hope I didn't put you in a comfortable no thank you thank you it was really nice to invite me thank you so much for your time thank you thank you Tiffany niente io spero che questa intervista vi sia piaciuta insomma che abbiamo chiacchierato di cose di massimi sistemi di cose altissime di cose veramente un po' frivoline però insomma spero davvero che vi sia piaciuta e niente adesso vi vi terrò aggiornati e aggiornate su cosa succederà anche su questo canale però insomma in tanto più a piccoli passi ci si sta riprovando niente io direi che vi ringrazio per aver trascorso un po di tempo insieme a me e anche se non so quando noi ci vediamo al prossimo video ciao